Vi voglio segnalare questo particolare, poi non lo vedo da vent'anni, l'altro ieri mi è capitato di incontrare un amico che sta nel mondo della finanza a livelli altissimi, lui mi dice questa cosa che mi ha sconvolto, ecco perché vuoi chiamare, mi dice io ormai non trovo soddisfazione più in nulla, cioè a me l'unica cosa che mi dà una ragione di esistere non è più né la famiglia né i figli né conquistare questo o quello, acquistare il grande immobili, è il tratto speculativo, cioè l'affare, io più ricavo, voglio dire, più incremento la soglia speculativa e più ho soddisfazione, il resto non mi dà più soddisfazione a nulla. Allora mi diceva, vedi Milinkovic, Milinkovic prende 30 milioni l'anno, no? Ma secondo voi, quei 30 milioni, ma chi li dà? E ci siamo noi, tutti quelli che lui non spende direttamente ce li danno, ritornano immediatamente il giorno dopo a noi, attraverso il circuito finanziario, quelli che spende, spende 10 milioni per una villa, il proprietario della villa che gliel'ha ceduta, il giorno dopo viene da noi. Sai come spendiamo quei soldi? Attraverso il circuito mediatico, perché dobbiamo far credere alla gente che questa è la realtà, questo è il fine e questo è il sistema che dovrebbe governare il mondo. Molto interessante. Poi giocano anche su altri moltiplicatori che tendono ad aumentare e a perpetuare il gioco, no? Cioè il gioco speculativo, in fin dei conti, si sviluppa sull'algoritmo della scommessa, della teoria dei giochi di John Nash, no? Io riferisco soltanto a quello che mi è stato detto. E' abbondantemente vero. Il gioco della speculazione finanziaria è un gioco di moltiplicazione del peccato originale stesso. Che però sfrutta la società e non la fa crescere. Ma infatti quando si dice che l'economia reale oggi è soffocata dall'economia finanziaria, è perché un tempo la banca, anche questo lo scrivo nel mio libro, che ha due capitoli dedicati proprio all'elogio del contante, il contante è libertà. Ma guarda caso, oggi il contante, in nome sempre dei predicozzi, viene condannato, viene ridotto, tende e tenderà sempre a scomparire. Perché? Perché la finanza ha gioco a far scomparire la moneta reale, la carta moneta. Perché con la carta moneta io sono libero di spendere come voglio senza dover giustificare alcunché. E soprattutto se tu Stato pensi che io abbia rubato, tocca a te dire che io ho rubato, non che io mi doi giustificare del contante che io ho. Quel contante è mio, è frutto del mio lavoro e sarò libero di utilizzarlo senza tetti e senza limitazioni. Di contro la finanza gioca sempre con le carte di credito. Vedi come ci danno sempre uno strumento di pagamento sempre più veloce. Ma qual è il trucco? È quello di non farti capire quanto stai spendendo. Un tempo, lo ricordo nel mio libro, le nonne andavano a fare la spesa con il borsellino. Sapevi quanti soldi avevi lì dentro, cioè fisicamente sapevi la tua disponibilità. Oggi ragazzi non utilizzano più la moneta. Hanno immediatamente un banco, ma topeggio ancora, pagano col telefonino. Non si rendono conto di quello che spendono. E questo poi si riversa in una società ormai a leva a debito e quindi viviamo condannati in una rateizzazione continua e sei costretto a lavorare per pagare le rate e per di più a costringerti, a umiliarti nel lavoro perché hai delle fottute rate da pagare e sei sempre in numero maggiore. Tutto dipende poi dalla formazione delle persone. Conosco un giovane investitore trentenne che è uno stato dei primi a credere per esempio nei chips Nvidia e ha fatto un successo clamoroso, che però lui dice vedi oggi gli investitori si dividono in due. Quelli che pigliano le start-up, le pompano, le fanno crescere, le fanno diventare una piccola società, le sparano in borsa, pigliano i soldi e scappano e poi questi dopo due anni falliscono. E quindi è come gonfiare un pallone finché la fine non esplode. Poi c'è l'altra modalità di capire quali sono quelle che possono avere un futuro, investire e fare in modo che queste crescano e facciano delle società che danno lavoro alle persone ma che anche producono attività funzionanti. Per esempio oggi ce ne sono diverse che stanno lavorando su un tema a te molto caro che sono i pannelli fotovoltaici con delle modalità assolutamente più efficaci ancora di quelle esistenti e quindi su lì bisogna investire. Però è tutto un misto di scoperte, innovazioni industriali, tecnologiche e anche capacità finanziarie. Però il mondo si divide in due. Quelli che speccono vogliono portare mordi e fuggi, portare a casa i soldi in due o tre anni te ne prestano due, ne vogliono 30 e quelli che invece magari ne mettono uno ma fra vent'anni ne porteranno a casa 50. Giusto. Lasciamo la parola a Francesco. Aveva una battuta a Vanni sul... Sì, Vanni, sì, sì, lasciamo la parola a Francesco ma prima Vanni che ci dà una battuta su questo argomento, poi Francesco e poi torniamo a tutti i nostri ospiti. Prego. Vanno, intanto volevo ringraziare il professor Michetti per la freschezza con la quale in realtà ha portato questo messaggio. Cioè mi è piaciuto moltissimo vedere il suo sdegno di fronte a ciò che gli veniva detto da questo personaggio. Cerco di riassumerlo nella maniera più semplice possibile. Lo sdegno era dovuto al fatto che questa persona non fosse più in grado di provare gioia e bellezza in nessun aspetto della propria vita, tranne quando si sta approfittando di qualcuno. Quindi sta descrivendo in una maniera tristissima e autocinica se stesso come una persona che non è capace di amare nulla e l'unica cosa che gli dà godimento e piacere è quella del profitto. Il profitto che deriva da profitto è che la gente non comprende che dove approfitto io c'è uno o tante altre persone che stanno perdendo. Quindi stava semplicemente dicendo che l'atto dell'approfittarsi degli altri di levargli quella disponibilità economica per prendersela a lui che probabilmente non ci fa niente è l'unica cosa che in realtà lo rende contento. Il personaggio in questione dovrebbe forse guardarsi allo specchio provare pietà per se stesso per la misera condizione in cui si trova perché non ha neanche lontanamente capito che l'unica cosa che gli darà quel briciolo invece di gioia e di bellezza è ciò che hai donato e non ciò che hai rubato.